è una giornata, vi faccio vedere questa immagine del mondo con i colori dell'arcobaleno l'arcobaleno è uno dei fenomeni più belli che abbiamo in natura è anche abbastanza frequente è una giornata, dovrebbe essere, speriamo sia, una giornata di riscatto per situazioni che sono oggi, al giorno d'oggi sono, dovrebbero essere, intollerabili possiamo vedere qualche esempio in Uganda, 20 anni di carcere, la promozione dell'omosessualità ma io volevo vedere le previsioni del tempo ma perché mi devi scassare la minchia io volevo solamente vedere le previsioni del tempo cosa? ma cosa? ma tu sei un colonnello dell'aeronautica dovresti dirmi solo le previsioni del tempo mi leggi pure la Costituzione adesso ma perché pure qua io devo sentire questa roba? perché? pupazzo, cosa ti fanno fare? dovresti dire le previsioni del tempo cosa ti fanno fare pupazzo? povero pupazzo cosa? queste sono delle bandiere con i colori dell'arco valeno ma non dico altro ma non dico altro che meglio